buongiorno buongiorno a tutti voi ben ritrovati per occhio ai giornali come di consuetudine il sabato di mattina sfoglieremo i quotidiani in edizione locale però guardiamo prima previsione il tempo e poi santo del giorno santo del giorno e poi le previsioni del tempo oggi la chiesa osserva la beata vergine maria di guadalupe sabato 12 dicembre il sole è sorto alle 7 e 32 e tramonterà alle 16 e 31 e allora guardiamo subito che cosa ci rimanda come dati la nostra postazione meteo guardate le temperature sono veramente basse in questo momento siamo al di sotto di un grado e quindi questa però è l'immagine che ci rimanda alla webcam come vedete splendidi colori che baciano le nostre colline che fanno sperare in una bella giornata di sole ma anche le previsioni della protezione civile ci indicano che sarà un cielo parzialmente nuvoloso nuvoloso però solo nel settore centro settentrionale nessuna precipitazione le temperature sono in lieve aumento come massime mentre le minime sono in diminuzione infatti vedete insomma nelle zone di fondo valle compare il segno della gelata oltre a quello della nebbia che quindi insomma le gelate mattutine possono essere sicuramente un problema quindi attenzione alla viabilità andate piano e naturalmente valutate bene la condizione del fondo stradale le previsioni per domenica sono scompare la simbologia delle gelate perché le temperature come vedete sono in lieve aumento nei valori minimi e però il cielo è sempre parzialmente nuvoloso o nuvoloso lunedì invece anche qui diciamo che lo schema si ripete come domenica attenzione alle nebbie presenti appunto nelle zone interne e soprattutto nella prima parte della mattinata nelle prime ore del giorno il cielo però sarà poco nuvoloso ad eccezione sempre della parte settentrionale la tendenza per i giorni successivi il tempo stabile sulle marche anche nella giornata di martedì non si esclude un lieve peggioramento delle condizioni meteo nelle giornate di mercoledì e di giovedì e quindi insomma abbiamo una prima parte della settimana diciamo buona e poi dovrebbe cambiare il tempo queste sono le previsioni naturalmente come sempre diciamo le previsioni più affidabili sono quelle che arrivano a tre giorni dopodiché insomma è un po' fantamete insomma guardiamo subito la pagina del resto del carlino quella che riguarda pesaro naturalmente la notizia che fa da firruge a tutti i quotidiani oggi quella della bocciatura del tarra per il referendum e quindi insomma foto notizia in primo piano sulla pagina del carlino che riguarda l'inserto locale seggi chiusi il tarra boccia il referendum lo blocca sulla fusione tra pesaro montbaroccio salta anche urbino e questo è quello che viene riportato nella foto centrale poi arcangeli davanti al jeep volevo salvare la mia valle verde questa la insomma testimonianza resa dal patron della ditta di scarpe poi banca marche fondo di solidarietà è necessario e quindi appello al governo e perché insomma lo vedremo anche all'interno ci sono dichiarazioni a riguardo di questa appunto anche dal l'assessore delle noci che dice il governo risponda al grido d'aiuto non può pagare tutto il territorio e quindi l'assessore delle noci dice è giusto il fondo per gli obbligazionisti altra responsabilità agli azionisti va lasciata l'idea di poter rientrare in futuro con un warrant questa è l'idea di delle noci e poi sempre su questa su questa cosa si esprime Carloni che da tempo spinge sul fondo di solidarietà e dice o Mirko Carloni dice ha solo valutato l'allarme ora stanzi 20 milioni di euro questo è rivolto naturalmente a ceriscioli ancora nelle pagine del resto del carlino che riguardano però pesero il canale è di nuovo in secca e lo vediamo qui nella foto vedete il canale a pesero versa nuovamente in condizioni di secca e quindi è colpa delle maree ma il dragaggio il dragaggio tarda ad arrivare il comandante dice stanno facendo la gara per l'affidamento dei lavori quindi dopo le feste dopo le feste ci sarà l'opera di dragaggio continuiamo sul resto del carlino andiamo nella pagina di Fano che ci riporta in testa di pagina la tragedia di Alan stroncato a soli 22 anni da un overdose e poi a centro pagina una situazione una situazione che si sta verificando al centro Itaca una storia di cuore di amore perché una cavalla ormai a 26 anni ha una prospettiva poco poco bella perché un acciacco gli impedisce di svolgere il suo compito nel centro Itaca di ipoterapia e quindi non può stare neanche nella fattoria didattica con gli altri animali perché i costi sono elevati e quindi si prospetta l'incubo abbattimento però è nel cuore di tutti sia dei bambini che dei genitori e allora si tenta di fare una sottoscrizione per pagare i 300 euro che servono per il suo stallaggio anche tenerla all'aperto non è possibile perché non è stata mai abituata e quindi insomma il cuore, il grande cuore dei frequentatori del centro Itaca si sta muovendo per salvare la vita questa cavalla che ha regalato tanta gioia sia a grandi che piccini ancora parliamo di politica nelle pagine del resto del carlino che riguardano Fano si parla di cultura e degli stati generali della cultura chi li ha visti dice Anna Marchetti nel suo articolo impasse all'interno della giunta dietro l'idea del sindaco soltanto promesse perché insomma l'aveva annunciata ben in due occasioni e poi nulla di fatto ma Marcheggiani rassicura si terranno a fine febbraio sarà un cantiere di lavoro suddiviso in due appuntamenti con diversi contributi e poi rinnovi il tuo documento e contemporaneamente puoi dare il tuo assenso all'espianto di organi e di tessuti a fine vita allora cambiamo la testata, parliamo naturalmente del Corriere Adriatico l'altra testata che vi facciamo sempre vedere anche qui insomma prendendo spunto dal decesso per overdose del ragazzo di 22 anni si parla a centropagina Massimo Foghetti fa un articolo sull'alcol e la droga l'inferno dei ragazzi adolescenti ubriachi fino al collasso e se ne è parlato alla Gandiglio con gli esperti che dicono appunto è una piaga sociale bere in tenera età è devastante e spesso costituisce l'avvio al consumo di stupefacenti però i ragazzi non sono stati sensibilizzati solo su questo argomento alla Corridone invece si è parlato di sicurezza stradale la polizia, la vedete qui nella fotografia l'agente preposto mentre spiega ai ragazzi quali sono le dotazioni minime e basi di sicurezza per andare in bicicletta giustamente loro vanno in bicicletta e quindi di biciclette si parla ognuno alla sua età ha il mezzo di locomozione adeguato Fano, Corriere Adriatico, si parla di Carnevalesca siamo arrivati a quota 300 in una sola settimana Cecchini dichiara raggiungeremo quota 2000 entro marzo tra gli iscritti sono anche due calciatori Zambrotta e l'ex portirone Tacconi la prossima settimana in programma l'estrazione di hashtag un posto al getto Bianchello Doc in dono ormai si fanno hashtag per qualsiasi cosa Ricci ha contagiato un po' tutti dalle elezioni in poi qualsiasi cosa ha il suo hashtag dedicato nella pagina di Senigallia del Corriere Adriatico se ne parla ancora è venuta fuori un'altra volta questa vicenda, questo aspetto delle aperture serali che sono un flop giù le serrande i commercianti rinunciano ad aprire perché c'è poca gente gli acquisti languono e quindi insomma tenere aperta la Saracinesca non conviene perché i costi di esercizio sono elevati e quindi il centro al centro della città resta l'intrattenimento eventi per bambini e insomma allietano quelli che lo frequentano anche nelle ore serali domani ci saranno gli sbandieritori di Corinaldo che gireranno con tamburi e bandiere partendo dal foro Anonario dal bellissimo foro Anonario di Senigallia però è un bollino rosso per questo weekend per viabilità situazioni critiche soprattutto domani per il mercato e allo stadio e quindi sono state modificate anche alcuni aspetti della viabilità nelle vie di San Martino e Fratelli Bandiera per questo fino all'11 di gennaio per naturalmente gestire al meglio il traffico delle feste natalizie e poi le iniziative per il giubileo al via domani un pellegrinaggio con partenza dalla chiesa di San Martino e naturalmente ci sono anche tante iniziative nella nostra diocesi per questo le vedremo la pagina di Pesolo del Corriere Adriatico anche qui riprende la notizia della bocciatura del Tar con la tanto conosciuta foto che è già stata vista tante volte insomma con Bombaroccio in una bara esulta il comitato del no Vicky deve dimettersi dice Ricci però incassa questo stop però dice il voto è stato solo rinviato quindi il Tar sospende i due referendum marcia indietro nei seggi quindi domani non si vota Pesolo Bombaroccio Urbino e Tavoleto gli oppositori dicono adesso vogliamo sapere quanti soldi pubblici sono stati inutilmente spesi sicuramente non saranno pochi nelle pagine di Pesolo in testa di pagina Banca delle Marche la politica non può chiamarsi fuori questo è anche l'articolo che vediamo all'interno delle pagine ve la faccio vedere subito la pagina che riguarda la dichiarazione dell'onorevole Ernesto Preziosi deputato del PD dice alle vittime vadano i soldi dei sequestri e quindi questa è la sua ipotesi membro della commissione bilancio il caso Banca Marche rivela una discutibile trasparenza la responsabilità di quanto è successo è in capo al CDA degli istituti di credito ma la politica non può tirarsi fuori e poi dice anche il compito della vigilanza spetta alla Banca d'Italia e a Consob qualcosa non ha funzionato e poi frasi in arabo sul muro della chiesa sul San Bartolo apparse nella parete accanto al monastero e sono scattati ecco le vedete qui sono scattati gli accertamenti di Carabinieri e Digos sui social network si sono scatenate le reazioni dei pesaresi l'altra pagina che vi faccio vedere Peserubino appunto fusione dei comuni il Tar gela i sostenitori sospeso il referendum Angelo Vichi dice indicazioni imprecise ma non molliamo si voterà nel 2016 oggi scuole chiuse per questo aspetto della votazione Banca delle Marche siamo di nuovo nella pagina delle Marche Ceriscioli metti 20 milioni e poi il Giubileo Loreto apre la Porta Santa Monsignor Tonucci la forza della semplicità attesi centinaia di pellegrini prima un cammino all'interno della città mariana e da domani si aprono anche tutte le altre principali cattedrali della regione compresa anche quella di Fano con una cerimonia del Vescovo Monsignor Trasarti ed eccola qui la pagina di Fano si parla di ciclabile ciclabile Fano e Fenile al via i lavori per la sicurezza il portavoce del comitato sostenitore della pista una ventata di speranza l'intervento inizierà lunedì dovrebbe concludersi entro l'estate appunto vi dicevo anche a Fano ecceberazioni per il giubileo apre la porta della misericordia in cattedrale a Fano sarà domani alle 16 ad aprirla Monsignor Trasarti e poi un lutto nel mondo della musica scompare Paola eclettico protagonista della musica è stato stroncato da un attacco cardiaco l'altra mattina poco dopo le 12 in fondo pagina troviamo due articoli torna il mercatino del baratto e della musica e della pesca un'occasione insomma per fare dei buoni acquisti o dei buoni scambi e poi una notizia che riguarda anche questo è il carnevale ma se ne verrà parlato da tanto tempo il museo del carnevale a Fano la città del carnevale meriterebbe questa cosa che regalerebbe agli amanti e gli stimatori di questa manifestazione tanta gioia ripercorrendo un po' il passato tutto il passato con fotografie con oggetti e quant'altro il carnevale le storie del carnevale di Fano si va a caccia di due milioni bisogna intercettare dei fondi europei per circa sei milioni e la quota della nostra città della città di Fano sarebbe intorno ai due milioni appunto insieme a questi fondi europei si sarebbe la possibilità di recuperare il complesso del Sant'Arcangelo lo dice l'assessore Marchegiani che insomma auspica che questi soldi arrivino perché così si stanno facendo delle valutazioni su quale possa essere la migliore soluzione su dove ospitare questo museo del carnevale che insomma per la città di Fano potrebbe essere un importante asset turistico anche attrattivo nelle tante offerte che la città dà a quanti la vengono a visitare bene questo è tutto per la rassegna stampa di questa mattina che torna attualmente l'unimattina puntuale alle 7.30 e questa sera vi rimando a occhio alla notizia in versione flash del sabato alle 20.30 grazie buon weekend a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti